Che siano maniaci della trasparenza è noto e di questo si vantano. Dopo quel che è successo in questo comune, ripetono fino alla noia, questo è anche più di un dovere morale, è un obbligo assoluto. Da quando il Movimento 5 Stelle si è insediato alla guida del comune, dare evidenza totale ad esborsi di missione, spese telefoniche e situazione dei redditi degli amministratori è un principio inviolabile. E da questa mattina tutto è online sul sito istituzionale del comune di Parma. Le cifre tengono conto del periodo compreso tra il giugno e l'agosto del 2012 e fino ai primi tre mesi del 2014 e in quest'ultimo periodo Pizzarotti e i suoi assessori hanno economizzato al massimo, riducendo all'osso ogni necessità. L'esborso complessivo è stato di 2454 euro. Chi ha viaggiato di più è stato ovviamente il sindaco, l'assessore Alinovi invece non si è mai mosso da Parma. Per i rimanenti assessori pochi viaggi low cost per alcune centinaia di euro. Sul sito del comune anche le dichiarazioni dei redditi di sindaco, assessori, presidente del consiglio comunale e relativi consiglieri, tutte cifre già rese pubbliche lo scorso anno. E poi le spese telefoniche. Sindaco e Giunta sono dotati di telefonino di servizio, ma ne hanno fatto un uso modesto. Per fare un esempio, nei mesi di luglio e agosto scorsi Pizzarotti ha speso 21,79 euro, la vice sindaco Paci 7,33 euro. Gli assessori Casa e Ferraris hanno invece esagerato. L'uno ha speso 37,82 euro e l'altra 28,86 euro.